ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzamodelato oggi parliamo di una polemica molto particolare legata a fratelli d'italia e come vedete ne hanno parlato un po tutti i giornali adesso qui ho aperto fan page ma potete trovare gli articoli su repubblica il corriere o solo il messaggero quello che vi pare adesso ho aperto fan page giusto per non aprire sempre repubblica sennò sembra che sono fissato solo su quel giornale quando invece sono tutti uguali proprio veramente uno copia in colla dell'altro ora qual è la polemica la polemica che c'è questo cartone animato che si chiama peppa pig non so quanti di voi lo conoscono comunque un cartone animato per bambini molto piccoli e hanno fatto un episodio in cui uno dei protagonisti uno dei porcelli protagonisti perché evidentemente sono tutti maiali io non lo guardo comunque i protagonisti sono dei maiali peppa pig peppa il nome pig voglia porcella porca ma non lo dico con fare offensivo la femmina del porco è la porca anche se fa un po ridere allora quindi c'è questo personaggio che ha due mamme e quindi la polemica è che siccome peppa pig in italia viene trasmesso dalla rai fratelli d'italia ha detto lasciamo fuori le ideologie lgbt eccetera la narrativa lgbt da programmi per bambini e non serve presentare un episodio di un cartone animato in cui c'è una bambina con due mamme che vengono presentate proprio come due mamme quindi famiglia omogenitoriale e via discorrendo ovviamente le polemiche al bigottismo non bigottismo eccetera ora ovviamente io cosa faccio vado a vedere l'episodio la cosa più facile da fare prima ancora di come prima di insomma fare qualche polemica facciamo e quindi mi vedo la presentazione di queste due mamme ora la guardo insieme alla guardiamo insieme poi ve la commento ok allora quindi questa porcellina bambina ha detto io sono con le mie a casa con le mie due mamme una mamma fa la dottoressa e l'altra fa gli spaghetti io amo gli spaghetti ok adesso vi vorrei un attimo commentare questa cosa perché ok allora io ci tengo io io voglio imparare dalla sinistra progressista che è sempre lì sul palco a dare lezioni morali con la e quindi io voglio imparare da loro io non voglio essere un bigotto non voglio essere una persona meschina legata al passato io non voglio essere un patriarcale sentite come come ci si sente bene come ci si sente liberati quando dici patriarcale con un po di disgusto ti senti subito una persona migliore perché io imparo da loro io imparo da loro è una cosa che mi pareva di aver imparato ma forse mi sbagliavo è che quando fai vedere una pubblicità una trasmissione così devi evitare di rimarcare il solito stereotipo della donna che sta a casa a cucinare mentre l'uomo ma qui c'è lo stereotipo uguale l'unica differenza che hanno messo due donne ma una lavora e l'altra sta a casa a cucinare quindi qual è il concetto aspetta me lo devo ragionare bene questa cosa il concetto è che se io faccio vedere una famiglia eterosessuale allora la donna deve lavorare perché se la faccio vedere che sta a casa a cucinare sono un maschilista patriarcale greto bigote se invece è una famiglia omosessuale allora se una delle due sta a casa a cucinare fa la stessa roba perché l'ha detto la bambina porcellina l'ha detto lei ha detto una mamma fa il dottore quindi quella che porta la pagnotta a casa e l'altra si occupa dei figli che non è più offensivo è meraviglioso non hanno questi non hanno una regola una regola che valga sempre non c'è un concetto un principio definito che vale sempre non si è offeso nessuno nessuna delle femministe incazzate che ha detto perché fate vedere una donna che sta facendo cucina no ah no lo stereotipo della donna che sta in cucina a cucinare va bene se non è sposata con un uomo ma è sposata con una marita non è la destra che si doveva arrabbiare per questa roba è la sinistra questo va contro tutto quello che mi avete insegnato voi dal vostro parico cari amici progressisti tutti i giorni a spaccarmi la minchia questa cosa del patriarcato del maschilismo che non bisogna farlo vedere non bisogna ballare questa vecchia famiglia brutta e poi va bene se due donne una sta a casa lavorare però l'altra è marita allora va bene meraviglioso è meraviglioso la seconda cosa è noto proprio da italiano hanno rifilato a sta povera bambina porcellina gli spaghetti senza niente ma metteci ma metteci un po di ragù cioè mi fai che famiglia perversa è una famiglia dove non mettono niente sulla pasta dove non c'è non c'è neanche un po di burro e grana grattato sopra niente quello non è cucinare gli spaghetti lo capisco che l'hanno fatto in america o in inghilterra dove la cucina non serve niente serve solo riempire la pancia ma non c'è un minimo ma sono veramente brutta questa è una famiglia brutta perché è una brutta io voglio chiamare i servizi sociali e dirgli che quelli di peppa pig maltrattano i bambini perché non si può dare la pasta così scondita senza niente ma è una roba allucinata è una roba terribile io stanotte avrò gli incubi soprattutto tutti gli italiani che vedranno sta roba stanotte avranno gli incubi adesso sto scherzando la prima la seconda è un po' sulla sul ridere ma la prima è vera pensateci bene va benissimo nessuno che si sia lamentato del fatto che pec papì la mamma di peppa sta a casa a cucinare o della bambina che magari non si chiama peppa non so come si chiama mentre l'altra lavora se la marita a lavorare allora non è paterca va bene detto questo spero di avervi dato qualche informazione utile e qualche spunto di riflessione come sempre se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e farmi sapere come la pensate sul patriarcato mi sento già bene questo video farà centomila visualizzazioni solo perché ho detto patriarcato che a facebook appena dice quelle parole pum 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 gli piace patriarcato è brutto cattivo cattissimo ci vediamo al prossimo video state informati ciao